Lo scorso novembre ha vinto il Challenger di Champagne negli Stati Uniti Alla destra del giudice di sedia per la Svizzera In questo dio di stagione ha giunto il terzo turno agli Australia e il quarta storia Alla sinistra del giudice di sedia per il Alla sinistra del giudice di Svizzera 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 del gi Gio 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 Gio